ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno dl semplificazione conte dice sblocchiamo 130 opere al via i cantieri per l'alta velocità da nord a sud poi gronda e olimpiadi abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche individuate specificamente dal mit a queste aggiungiamo quelle per le olimpiadi e quelle di competenza di altri ministeri a dirlo in conferenza stampa per la presentazione del dl semplificazioni il presidente del consiglio giuseppe conte che evidenzia anche la piccola rivoluzione per i funzionari pubblici con la nuova normativa ci saranno più rischi per il funzionario che tiene ferme le opere non per quello che li sblocca siamo arrivati a una situazione perversa per cui fa carriere chi non firma e chi si assume responsabilità rischia di esporsi a un soverchio danno insomma dobbiamo fermare la paura della firma detto roma ha smantellato il clan senese il boss e iniziava inviava scusatemi pizzini dal carcere tra gli arrestati anche il fratello della senatrice del pd cirina l'operazione della procura di roma ha smantellato il clan di origine napoletana storicamente collegato al clan moccia di afragola che dagli anni 80 si è insediato stabilmente nella capitale tra le 28 persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare anche claudio cirina fratello dell'esponente dem completamente strani alle indagini e accusato di usura gli affari del clan sono tra svizzera e lombardia davide casaleggio ricevuta da conte a palazzo chigi e dice abbiamo parlato anche di regionale io presentato il piano dell'associazione gian roberto casaleggio il figlio del cofondatore del movimento presidente dell'associazione russo è arrivato a roma il 6 luglio e ha cenato con alessandro di battista in programma un confronto anche con luigi di maio coronavirus bruxelles peggiora le stime sul pil calo grave in eurozona per l'italia fino a meno 11,2 per cento conte dice non lasciarsi spaventare prodotto interno lordo del nostro paese risalirà al 6,1 per cento nel 2021 male comunque anche spagna o meno 10,9 in francia meno 10,6 le previsioni economiche destano d'estate ci mostrano che la strada per la ripresa è ancora la stricata di incertezze lo ha dichiarato il commissario europeo all'economia la pandemia ha colpito l'economia europea più forte dell'atteso anche se un cauto rimbalzo sta cominciando la commissione promuove le politiche adottate dal governo per contrastare la recessione ma si temono gli effetti di una seconda ondata di contagi trapani ha arrestato il boss massone asaro il dentista indagato il sindaco di paceco anche lui lo chiamava don mariano noto come il dentista fu accusata anche per la strage di pizzo lungo del 2 aprile 1985 ma assolto avviso di garanzia invece per l'ex deputato paolo ruggirello anche lui arrestato lo scorso anno ed alcuni giorni trasferito ai domiciliari al centro della vicenda la creazione di una clinica la società pace codental notizie da treviso dal veneto visite virtuali nelle aziende e a treviso i capannoni sono in 4d in centro storico la società di fulvio ottaviano che è appunto assunti 20 ragazzi under 30 e grazie all'architettura digitale si vita si visitano le fabbriche anche con il lockdown maturità 11 centine a monte belluna festa al liceo veronese pieno di promossi buoni nel complesso tutti i punteggi grazie a una didattica a distanza ben gestita dall'istituto tante feste e movida senza le mascherine casi si moltiplicano a castelfranco su facebook le immagini di balli di gruppo in un locale castellano malumore tra i gestori che dicono c'è chi fa il furbo e paghiamo tutti truffa dell'energia 300 denunce sono sparite almeno 5 milioni di euro conegliano si moltiplicano i casi di clienti beffati dalla società che prometteva bollette zero in cambio di acquisti indagano le procure di treviso e udine l'avvocato maria brusca ha detto le segnalazioni continuano camici chirurgici per gli ospedali veneti blitz dei carabinieri in un laboratorio cinese venivano confezionati in un capannone di castelmaggiore nel bolognese senza rispetto delle normative previste per i dispositivi medici i lavoratori mangiavano e dormivano con dormivano all'interno del capannone sull'etichetta il marchio di un'azienda di casale sul sile fornitore di azienda zero stanno indagando i carabinieri del nucleo nasa notizie dal friuli venezia giulia ma prima di passare alle letture delle notizie diamo la parola alla nostra corrispondente da udine sabrina cicotti ritrovato il corpo del 55 anni fa edis invadi resia l'uomo si era allontanato durante un'escursione con amici da solo in un sentiero i familiari non vedendolo rientrare avevano dato subito all'allarme i rilievi sul luogo permetteranno di capire se l'uomo è deceduto a causa di un malore o a seguito di una caduta accidentale sempre in varresia è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per aiutare un uomo che si era ferito durante il taglio della legna con una motosega è tutto da udine sabrina cicotti per radio saioz bene adesso passiamo alla lettura delle notizie boscaiolo muore schiacciato da un tronco tragedia nel primo pomeriggio sul passo pura inutili purtroppo i soccorsi l'uomo è deceduto sul colpo un infortunio mortale sul lavoro sul sul lavoro sul passo pura nella zona che collega ampezzo con la valle di sauris a circa un chilometro dal rifugio nel primo pomeriggio un boscaiolo intento a tagliare alcuni alberi è stato travolto da un pesante tronco l'uomo è deceduto sul colpo coronavirus due nuovi casi a trieste entrambe le persone sono arrivate dalla serbia già avviato il tracciamento coronavirus appunto questi due casi scoppiati a trieste dopo il focolaio individuato venerdì scorso che aveva interessato un nucleo familiare di quattro persone e altri quattro colleghi di lavoro a trieste sono stati accertati due nuovi casi di covid 19 la conferma arriva dal vicepresidente della regione riccardo riccardi che in un tweet sottolinea come entrambe le persone sono arrivate in città dalla serbia anzi hanno rapinato in pieno giorno a portogruare due donne lo hanno avvicinato con la scusa con la scusa di chiedergli un'informazione e gli hanno strappato dal polso un orologio d'oro rapina quindi ha morto a portogruare intorno alle 12 di oggi un uomo di 80 anni è stato avvicinato da due donne che con il pretesto di chiedergli informazione lo hanno strattonato rapinandolo del suo orologio d'oro le due donne sono poi fuggite a bordo di un'auto sulle loro tracce ci sono i carabinieri della compagnia di portogruare coordinati dalla procura di pordenone l'uomo è stato medicato dal personale dal personale sanitario ha riportato lievi lesioni ristrutturazioni per le aree di servizio di autovie venete in programma lavori a duino sud e scambi di carreggiato per l'esecuzione di alcuna di alcune riasfaltature ristrutturazioni in corso nelle aree di servizio della rete autostradale di autovie venete i lavori sono stati avviati anche a duino sud un'area molto frequentata perché oltre agli impianti di distribuzione di carburanti e al punto di ristoro l'edificio dell'area di servizio sarà demolito e ricostruito ex novo ma il servizio non si interromperà perché in attesa della costruzione è stato montato un prefabbricato alternativo che occupa il piazzale normalmente adibito al parcheggio dei mezzi pesanti e quindi attualmente i veicoli di massa superiore alle tre tonnellate e mezzo non possono sostare trolley sospetto scatta l'allarme a trieste gli artificieri intorno a mezzogiorno hanno fatto brillare la valigia abbandonata in via del teatro romano un allarme per un trolley sospetto a trieste verso mezzogiorno come dicevamo gli artificieri del nucleo regionale della polizia di stato hanno fatto brillare la valigia scoperta nei pressi degli stalli del parcheggio riservato ai dipendenti del comune in via del teatro romano bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della rassegna stampa in studio con voi l'osario moreno buon proseguimento con la programmazione